Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. CON QUESTO CASO AGGHIACCIANTE Nasce il 19 dicembre 1973 e all'età di 30 anni vive a Sheffield, in Inghilterra. Dovete immediatamente sapere che Zahid è un truffatore, non ci si può fidare di lui perché mente su qualsiasi cosa. Ad esempio racconta la gente che è ricco e che ha un lavoro fantastico, grazie al quale guadagna tanti soldi. In realtà non solo Zahid non è affatto benestante, ma è addirittura disoccupato. Nel 1996 l'uomo resta coinvolto in un brutto incidente automobilistico che gli provoca un grave trauma cranico. Rimane in coma per molto tempo e quando si sveglia scopre che dovrà usare una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Non ci sono prove di questo evento e delle sue drammatiche conseguenze. Infatti probabilmente non si è mai verificato, o quantomeno, Zahid non aveva bisogno di spostarsi sulla sedia a rotelle, come in realtà fa costantemente. Zahid si finge invalido col fine di richiedere e ottenere dei benefici dallo Stato e anche per avere le attenzioni delle persone che lo circondano. In diverse occasioni però non è stato abbastanza attento perché c'è chi lo ha visto alzarsi dalla sedia a rotelle e correre per evitare di perdere l'autobus. O chi ha notato che trasportava dei mobili dentro o fuori casa. Tuttavia quando le persone vedono Zahid mettersi in piedi esclamano, oh mio Dio, ma è un miracolo! Ci sono anche altri momenti in cui Zahid salta giù dalla sedia a rotelle, cioè quando litiga con qualcuno e ha l'istinto di far scattare una rissa. Il truffatore di solito adesca anche le sue prede online per fissare degli appuntamenti romantici. Lo adora perché può fingere di essere chi vuole. È l'inizio degli anni 2000 e Zahid per rimarcare la propria ricchezza inesistente decide di impostare come fotoprofilo di un sito web un'immagine in cui posa davanti a dei lingotti d'oro chiaramente falsi, probabilmente inseriti con Photoshop. Tuttavia nel 2005 è proprio tramite internet che Zahid incontra la sua prima seguace. Sì, perché il futuro fonderà una piccola setta. La donna si chiama Kay Raworth. Era nata il 10 novembre 1960, a 45 anni e attualmente vive a North Shields, che è il paese in cui si svolge questo caso. Kay si era sposata due volte e ha avuto due figli dal primo matrimonio. È una donna allegra, frequenta la chiesa locale, canta nel coro, ama giocare a cricket, insomma viene vista molto spesso in giro per il suo quartiere, perché è un membro attivo della comunità. Dopo il suo secondo divorzio però la salute mentale di Kay diventa più instabile, è molto vulnerabile e soffre di depressione. Per combattere la solitudine Kay si iscrive a dei siti web di incontri, è a questo punto che incontra Zahid. I due iniziano a chattare, vanno molto d'accordo e decidono di incontrarsi. Senza che si siano mai viste di persona, nel dicembre del 2005 Zahid chiede a Kay se può andare a vivere da lei. Kay, angosciata dalla propria solitudine, acconsente e Zahid si trasferisce da Sheffield a North Shields. All'inizio tutto pare fantastico, Zahid corrisponde a Kay 20.000 sterline per darle una mano a pagare il mutuo. Onestamente non so da dove abbia preso questi soldi, visto che non lavora, ma non lo fa per gentilezza. È solo un modo per raggirare e manipolare Kay. Zahid, ora, le ha fatto un favore, quindi Kay è in debito con lui. Kay viene completamente ingannata da Zahid e è convinta che lui sia un brav'uomo, d'altronde la pur aiutata a pagare il mutuo. Zahid le ripete che la ama e che farebbe di tutto per lei e col tempo riesce a esercitare sempre più controllo su Kay, senza che lei nemmeno se ne renda conto. Questo perché Zahid prende spazio gradualmente. All'inizio assume il controllo su cose relativamente di minore importanza, ad esempio decide come riposizionare i mobili in casa. Ma col tempo il suo agire autoritario si fa sempre più asfissiante. Infatti è Zahid che stabilisce perfino con chi può parlare e uscire Kay. Lei di questo passo si ritrova isolata da tutti i suoi amici e familiari. Kay non può allontanarsi da casa senza prima chiedere il permesso a Zahid. Lui le impedisce addirittura di vedere i suoi figli e Kay passa dall'essere una donna allegra e frizzante a una persona triste ed emarginata. E la situazione peggiora ancora quando Zahid inizia a essere fisicamente aggressivo nei confronti di Kay. Quando emerge il suo lato violento, Zahid si alza dalla sedia a rotelle e mette le mani addosso a Kay mentre le grida contro gli insulti peggiori. Zahid comincia ad arrabbiarsi per qualsiasi cosa e arriva anche a sputare in faccia a Kay. Talvolta, durante gli scatti d'ira, Zahid afferra un martello e inizia a spaccare i muri della casa. Ha un modo di fare intimidatorio e aggressivo, ma usa l'astuzia per manipolare Kay, convincendola che questi amici è lei che se li va a cercare. Zahid le dice che lui cova così tanta rabbia dentro di sé a causa dell'incidente d'auto che aveva subito anni prima. Dunque è la lesione cerebrale che a tratti lo rende furioso ed è colpa di Kay si alimenta la sua collera con quel suo agire sconsiderato. Kay prova a interrompere la relazione con Zahid un paio di volte, ma lui sa come plagiarla, la minaccia dicendole che se lei lo lascia, lui si toglierà la vita. In un'altra occasione Zahid fa abuso di sostanze e va in overdose, ma accetta di sottoporsi a una lavanda gastrica soltanto se Kay lo assicura che tornerà a stare con lui. E anche questa volta Kay cede. Zahid è un autentico narcisista che provoca il senso di colpa nella propria compagna per indurla a rimanere con lui. Utilizza anche diverse tattiche di controllo e intimidazione tipiche della personalità narcisista. Ad esempio, fa intendere a Kay che lui è davvero un uomo pericoloso. Infatti le dice che una gang di Sheffield lo sta cercando. Ecco perché deve indossare un giubbotto antiproiettili. Kay in questo modo rimane legata a Zahid anche perché è spaventata, teme che pure lui faccia parte di una gang criminale e che i suoi membri la perseguiterebbero qualora lei decidesse davvero di lasciare Zahid. Passano alcuni anni e Kay per quanto provi numerose volte a lasciare Zahid, alla fine torna sempre da lui. Zahid è un uomo pessimo ma in pubblico si mostra come una persona completamente diversa. Vuole essere amato dal prossimo quindi si sforza di sembrare un angelo di fronte agli altri. Ad esempio, si comporta come un buon vicino di casa, è gentile, premuroso e amichevole con i residenti della sua stessa via. Racconta a tutti del suo tragico incidente d'auto, sottolineando quanto per lui sia stato difficile riprendersi. E, automaticamente, tutti quanti gli riservano comprensione e affetto. Zahid inizia addirittura a praticare volontariato presso una mensa locale che accoglie senza tetto. Viene coinvolto in diversi eventi di beneficenza e viene perfino fotografato con il sindaco di Newcastle per il suo impegno profuso nell'assistere ai bisognosi. Insomma, Zahid è conosciuto dalla comunità come un cittadino onesto e gentile che ama aiutare il prossimo. In un'altra occasione, Zahid appare su un giornale locale perché ha ritrovato il cane scomparso di una vicina. Nell'articolo viene descritto come un eroe che salva gli animali e li fa ricongiungere con i loro padroni. Gli viene pure offerta una ricompensa per aver trovato il cane disperso, ma Zahid rifiuta. Afferma che non ne ha bisogno perché lui ama follemente i cani ed è felice di aver aiutato la sua vicina. Questo gli basta. Solo in futuro emergerà il sospetto che Zahid avesse rapito il cane della vicina soltanto per poter impersonare il ruolo dell'eroe, riconsegnandolo alla padrona in un secondo momento. Dopo un po' di tempo, in rapida successione, Zahid incontra tre persone determinanti per questo caso perché presto diventeranno seguaci della sua piccola setta. La prima persona che incontra è una donna di nome Mayra Wood. Mayra era nata il 29 ottobre 1966, ha 43 anni e si trova in una situazione simile a quella di Kay. Ha divorziato da poco, da suo marito ed entra in contatto con Zahid tramite Facebook. Iniziano a chattare e si trovano molto bene. Entro poco tempo, Zahid frequenta sia Mayra che Kay. Poi Zahid incontra un'altra donna di nome Anne Corbett, nata l'8 novembre 1990. Anne ha soltanto 20 anni, quindi è molto più giovane rispetto alle altre adepte della setta. Anche lei è reduce da un passato travagliato, ha problemi di apprendimento e non ha nemmeno un posto in cui vivere, visto che i suoi genitori sono soggetti molto problematici. Zahid infatti incontra Anne tra i senza tetto che frequentano la mensa di Newcastle, presso la quale lui fa volontariato proprio nell'intento di individuare persone in difficoltà, fragili. Dunque anche Anne è una donna vulnerabile, manipolabile e ingenua, come Mayra e Kay. In poco tempo Anne si innamora di Zahid, convinta che sia una brava persona, anzi un eroe. Infine, l'ultima persona che si unisce alla setta di Zahid è un uomo di nome Jimmy Prout, nato nel 1970. Jimmy vive nella città di Newcastle e non ha un vissuto felice alle spalle. Anche lui soffre di disturbi di apprendimento, ha cinque fratelli più grandi, ma suo padre è stato completamente assente durante la crescita di tutti i figli, mentre sua madre ha problemi di salute mentale. Per questo motivo Jimmy ha trascorso gran parte dell'infanzia in affidamento. Una volta adulto, Jimmy ha conosciuto una donna di nome Mandy, si è sposato con lei e la coppia ha avuto due figli. Purtroppo, presto, l'intero mondo del ragazzo è andato in frantumi a causa della sua vulnerabile salute mentale e dei suoi problemi finanziari. Jimmy ha bisogno di aiuto, ma non c'è nessuno che gli stia vicino, quindi anche lui diventa un senza tetto e perde ogni contatto con i figli. Nonostante ciò, Jimmy è noto per avere una personalità molto ottimista. Siccome è sempre allegro, le persone non immaginano minimamente quale sia il suo passato. Nel 2009, quando Jimmy ha quasi 40 anni, conosce Zaid, mentre frequenta una mensa dei poveri a Newcastle. I due iniziano a chiacchierare e Zaid intuisce che Jimmy è la vittima perfetta per lui. Jimmy, dal canto suo, si innamora delle storie che gli racconta Zaid. È affascinato dalla sua personalità e pensa che sia una bravissima persona. Zaid, dopo aver invitato le altre due donne a vivere con lui e Kay, accoglie anche Jimmy, in quella che molti definiscono una piccola setta, anche se l'adozione di questo termine è controversa, visto che il leader ha soltanto quattro seguaci. A mio avviso poco importa del numero di adepti, perché le dinamiche che regolano la vita del gruppo ricalcano davvero quelle di una setta, dominata da un leader autoritario. Nella piccola casa dove vivono Zaid e Kay, al numero 35 di St. Stephen's Way, in realtà non c'è abbastanza spazio per accogliere tutti i seguaci. Quindi Zaid, con i soldi di Kay, compra un immobile per ospitare Jimmy, Ann e Mayra, collocato nella stessa via, ma al numero 75. Ho cercato su Google Maps le due abitazioni. Questa è quella in cui era andato a vivere Zaid con Kay, al numero 35, e come notate è offuscata, forse proprio a causa degli eventi che si sono verificati qui. Mentre questa è la casa in cui si stabiliscono gli altri membri della setta, al numero 75. In sostanza Zaid continua a portare avanti la relazione con Kay, ma frequenta anche Mayra. Di conseguenza ha due fidanzate, mentre Ann, che come detto è molto giovane, inizia una relazione romantica con Jimmy. Zaid, che ha già isolato completamente Kay, e la manovra come se lei fosse un burattino, inizia a fare lo stesso con tutti gli altri seguaci. A nessuno è permesso di interagire con qualsiasi persona estranea al loro piccolo gruppo, quindi smettono di sentire gli amici e i familiari. Gli adepti devono incamerare nella mente le convinzioni di Zaid, dunque essere d'accordo con tutte le sue idee e opinioni. In pratica agiscono come dei robot. È Zaid che programma ciò che devono pensare e credere. Chi non fa parte del gruppo viene considerato un pericoloso estraneo. Ecco perché i seguaci del leader Zaid non possono avere contatti e interagire con nessuno al di fuori dei membri del gruppo. L'organigramma della setta è indiscutibilmente gerarchico. Zaid è al vertice. Kay e Mayra, le sue due fidanzate, rappresentano le sue forze dell'ordine fidate. Sono i suoi occhi e le sue orecchie. Subito dopo c'è la giovane Anne, che è meno importante delle altre donne, perché non ha una relazione con Zaid, ma si posiziona comunque un gradino sopra Jimmy. Quest'ultimo, ahimè, viene trattato davvero male da tutti gli altri membri della setta. Zaid, ahimè, approfitta della vulnerabilità di Jimmy, un uomo ancora acerbo che farebbe qualsiasi cosa pur di restare nel gruppo. Quindi si ritrova a dover svolgere tutti i lavori domestici. Deve rassettare, pulire o occuparsi della manutenzione di entrambe le proprietà, ma non viene mai retribuito. Anzi, tutti lo ripagano maltrattandolo. Se la casa non è abbastanza pulita, secondo il parere di Zaid, Jimmy viene insultato e picchiato. Qualcuno al di fuori della setta si accorge di cosa sta accadendo. Infatti afferma che Jimmy viene considerato e trattato come lo schiavo del gruppo. Gli osservatori esterni di certo non hanno una visione completa dell'assurdità e della struttura di questa setta, ma sospettano che in quelle due case di St. Stephen Way stia succedendo qualcosa di strano. E soprattutto iniziano a rendersi conto di chi è davvero Zaid. Ad esempio, quando i membri del gruppo escono in strada, devono tutti camminare in riga, dietro Zaid. Lui apre la fila sulla sua sedia a rotelle e dopo di lui si dispongono in ordine Kay, Myra, Anne e infine Jimmy. È assolutamente vietato camminare davanti a Zaid. Il leader della setta a questo punto smette di preoccuparsi di ciò che la gente pensa di lui. Finora Zaid era considerato come un eroe, un brav'uomo e lui si beava di questa reputazione, voleva piacere alla gente e desiderava che tutti gli prestassero attenzione. Ma ora che ha dei seguaci e quindi un potere all'interno del suo gruppo, non gli importa di farsi apprezzare da nessun altro. La sua maschera inizia a sfaldarsi e il leader da persona gentile e onesta diventa un incubo per i suoi vicini. Zaid sbarra completamente le finestre delle due case di proprietà di Kay. Non vuole che il vicinato e i passanti possano sbirciare dentro e vuole anche impedire ai suoi seguaci di osservare l'esterno. Questa è un'altra tattica di controllo. Poi installa delle telecamere in entrambe le case, ma non per motivi di sicurezza, bensì per spiare i vicini. Infatti non orienta la telecamera affinché inquadrino l'interno delle abitazioni, ma per riprendere la strada. Zaid spera di sorprendere i vicini mentre fanno qualcosa che gli permetta di denunciarli alla polizia o al consiglio locale. Ed effettivamente denuncia i vicini per qualsiasi tipo di violazione. indossa persino una piccola bodycam nel tentativo di coglierli in fallo, poi li insulta con indubbia scortesia. Nel tentativo di accumulare motivi a sostegno delle sue denunce, Zaid va in giro per il quartiere e provoca delle liti con i passanti, le registra e poi invia le clip alla polizia, affermando che le persone nel video lo stanno molestando. Zaid fa proprio di tutto per infastidire i vicini. In un'occasione, mentre si aggira in strada sulla sedia a rotelle, rovescia intenzionalmente i bidoni della spazzatura degli altri residenti, spargendo i rifiuti ovunque. Un vicino giustamente gli chiede cosa diavolo stia facendo e Zaid lo istiga alla lite col fine di registrarlo e di mandare la clip alla polizia. Ma non è finita qui perché Zaid riesce a dare il tormento agli altri pure mentre se ne sta in casa propria. Nel civico 35 condivide un muro con un vicino e comincia a colpirlo sia a mani nude che con degli oggetti casuali nel bel mezzo della notte. Provoca rumori bruschi apposta per svegliare e disturbare gli altri inquilini. Onestamente, mi stupisce che nessuno lo abbia denunciato. Quando Zaid segnala alla polizia le violazioni dei suoi vicini, riferisce sempre che quelle persone lo discriminano a causa della sua disabilità. E questo ovviamente se lo inventa, infatti non fornisce alcuna prova concreta a supporto delle sue affermazioni. Comunque in poco tempo gli abitanti del quartiere iniziano a odiare Zaid e lui, tanto per esasperare la situazione, assume atteggiamenti ancora più aggressivi con il vicinato. In un'altra circostanza, Zaid inizia una discussione con un vicino per questioni legate alla spazzatura, poi prende una palla da biliardo, lei infila in un calzino e colpisce il suo interlocutore. Di nuovo mi chiedo perché il vicino non abbia denunciato Zaid alla polizia dopo un episodio del genere. Tra un'istigazione e un'altra, Zaid cerca sempre di ottenere ulteriori benefici dal comune in ragione della sua disabilità e vi ricordo che lui è un finto invalido. In ogni caso, il comune non asseconda la sua richiesta, allora Zaid si infuria con la consulente locale e si vendica del diniego. Scrive una lettera dal contenuto fortemente discriminatorio nei confronti dei disabili e la falsifica ponendo la firma della consulente. Fa credere che quegli insulti denigranti e il linguaggio scurrile siano opera della donna e la denuncia alle autorità. Dato che la lettera è davvero ben fatta perché ha l'intestazione corretta e la firma della consulente è stata abilmente inserita tramite Photoshop, la polizia non sospetta che il documento sia stato falsificato. Così inizia a indagare sulla donna accusata della discriminazione e la convoca alla stazione di polizia. Lei rischia il licenziamento. Fortunatamente alla fine la polizia si accorge della frode ma in ogni caso la consulente ha vissuto dei momenti alquanto avvilenti. Zaid invece indovinate un po' non viene nemmeno indagato per aver falsificato un documento e per aver cercato di far licenziare una persona priva di colpe e questa la trova una cosa assurda. Per non parlare della reazione spropositata che Zaid manifesta in un'altra circostanza un vicino accidentalmente calcia un pallone oltre la recensione della casa di Zaid e quest'ultimo in tutta risposta decide di bruciare la tettoia della casa del vicino. A questo punto credo di avervi reso bene l'idea dei comportamenti provocatori e inadeguati di Zaid e se lui è un tale incubo per gli estranei immaginatevi quello che fa a porti chiuse e finestre sbarrate con gli sventurati che vivono insieme a lui. Passano alcuni anni e Zaid diventa sempre più violento verso tutti i suoi seguaci che lo temono enormemente. Durante le sfuriate spesso Zaid si alza dalla sedia a rotelle impugna un martello e picchia le sue vittime con le sue fidanzate Mayra Ikei si arrabbia per le questioni più insignificanti ripete i membri del gruppo che potrebbe uccidere qualcuno di loro in qualsiasi momento da prima appunto un coltello alla gora di Mayra poi inizia a farlo con tutti gli altri in un'occasione si siede addosso a Mayra impedendole di respirare e non si muove da lì fino a quando lei non perde i sensi oltre a ciò Zaid pretende che Mayra e Ikei abbiano rapporti intimi con lui più volte al giorno e ordina addirittura alle due donne di bere la sua urina e ora arriviamo a una cosa davvero brutta perché Zaid in questo periodo si interessa a video piccanti dai contenuti basati sulle bestialità guarda numerosi filmati di donne che hanno dei rapporti con gli animali specialmente con i cani onestamente credo sia disgustoso e meno male che Zaid amava tanto gli animali pensate che cosa avrebbe fatto se non li avesse amati insomma Zaid piacciono tantissimo questo genere di video così un giorno cosa fa esce di casa va a comprare dei cani e cerca di costringere Mayra e Ikei ad avere dei rapporti con gli animali questa volta le due donne riescono a tracciare un limite opponendosi alla folle e deplorevole richiesta ma i poveri cani avranno ancora spazio in questa sfortunata storia Zaid ormai di tutti i suoi seguaci ma come detto principalmente di Mayra e Ikei perché condivide una relazione intima con loro e inizia a molestare entrambe le molesti intime sono sempre eventi traumatici e devastanti ma vi assicuro che anche Jimmy subisce terribili maltrattamenti infatti Zaid di base lo usa con un sacco da box e a questo punto dobbiamo affrontare gli eventi più malsani e contorti di questo caso arriviamo al 2015 Zaid ha 42 anni Jimmy ne ha 45 Kay 55 Mayra 49 e Anne 25 il gruppo come raccontato ha sempre inquadrato Jimmy come l'ultimo degli ultimi lo ha sempre trattato male ma nel corso degli anni la situazione non fa altro che peggiorare Jimmy è rimasto lo schiavo del gruppo quello che sbriga tutti i lavori domestici cucina pulisce la casa si occupa di giardinaggio mantiene il cortile in ordine nell'ottobre del 2015 il fratello di Anne Ivan per un periodo va a vivere con la setta stabilendosi al numero 75 insieme alla sorella a Jimmy e a Mayra Zaid prova a reclutare Ivan nella setta tuttavia quest'ultimo non si lascia controllare e manipolare facilmente come gli altri di conseguenza Zaid inizia a provare una forte antipatia per Ivan un giorno dal civico 75 spariscono degli strumenti da lavoro di Zaid riposti in una cassetta per gli attrezzi non sappiamo se gli abbia rubati Ivan ma non ci sono dubbi sul fatto che Zaid gode nell'inventare problemi che non esistono Zaid vorrebbe sfogare la sua rabbia contro Ivan il sospettato del furto ma non riesce a soggiogarlo allora in colpa Jimmy si scaglia contro di lui come una furia e smette di trattenere il lato più oscuro del suo essere violento Zaid ora è pronto a scatenare tutti i suoi impulsi sadici su Jimmy e il resto degli adepti non interviene affatto tutti accettano passivamente le azioni malvagie di Zaid fino a partecipare con lui a queste brutali torture Jimmy viene picchiato quotidianamente sia da Zaid che dal resto del gruppo la sua pelle è ridotta a una mappa di lividi Zaid è indubbiamente un essere disgustoso che prova piacere a fare del male a Jimmy ma anche gli adepti iniziano a divertirsi nel seviziare il più debole infatti si incitano a vicenda il leader a questo punto si rende conto di riuscire a esercitare un potere davvero smisurato su Kay Mayra e Anne dunque si siede ordina alle tre donne di picchiere selvaggiamente Jimmy e si gode questo spettacolo raccapricciante mi sono chiesta a lungo perché Zaid stia facendo questo che cosa ne ricava qual è la sua motivazione per quanto mi riguarda Zaid ha seminato tutto questo male solo per il gusto del controllo Zaid come tanti altri leader delle sette brama il controllo esclusivo e totale sulle altre persone e in effetti lo ha ottenuto almeno su quattro Kay Mayra e Anne sono talmente in balia della sua autorità che Zaid è in grado di istruirle su come attaccare un altro essere umano e loro poi lo fanno volontariamente ovviamente Zaid ha plagiato completamente anche Jimmy al punto che lui non tenta nemmeno mai di scappare e questa escalation di ab***** e di maltrattamenti va avanti per settimane i sopprusi perpetrati dalla banda sono sempre più sadici Zaid acquista nuovi strumenti di tortura con cui picchiare Jimmy si diverte di più quando lo colpisce con un martello di gomma ma lo massacra anche con altri oggetti domestici il gruppo poi inizia a negare il cibo a Jimmy lo affama fino a che lui non perde tantissimo peso e viene costretto a restare per ore in piedi non gli permettono mai di sedersi un altro aspetto davvero allarmante di questa vicenda è che Jimmy mentre subisce simili sopprusi rimane attivo su facebook e posta delle foto in cui si nota che la sua faccia è piena di lividi e che ha perso così tanto peso accumula lesioni tremende e nelle descrizioni nelle didascalie delle sue foto sui social scrive il mio corpo fa male le spalle mi fanno male ho bisogno di aiuto soffro così tanto insomma tutti segnali di pericolo davvero evidenti ma purtroppo nessuno lo aiuta nessuno interagisce con i suoi post a parte Anne che vi ricordo è la sua ragazza lei mette like a ogni singola foto ma ci sono ancora tanti motivi per sconvolgerci dato che il 27 novembre del 2015 Jimmy va in ospedale per farsi medicare e purtroppo lo accompagna Zaid Jimmy presenta libidi su tutto il corpo e sul viso e riporta anche delle ferite da taglio sulla parte superiore del busto ha la spalla sinistra fratturata e quando il medico gli chiede come si è procurato queste ferite Zaid interviene dicendo oh Jimmy è stato aggredito da una gang e il dottore non fa altre domande mi chiedo perché il medico non abbia ritenuto sospetto il fatto che Zaid parlasse al posto di Jimmy arriviamo alla fine del 2015 a questo punto i maltrattamenti e i supprizi subiti da Jimmy proseguono da mesi ma Zaid sostiene che le solite torture non sono più sufficienti ora decide che i membri del gruppo a turno devono farsi avanti per strangolare Jimmy poi devono spaccargli delle bottiglie di vetro sulla testa infine Zaid estrae dalla tasca dei pantaloni una pinza e la utilizza per strappare i denti di Jimmy uno per uno se la pinza non basta Zaid utilizza un martello e uno scalpello per spaccargli i denti dopo l'atroce se vizia Jimmy viene lasciato agonizzante soffre terribilmente urla straziato ma l'orrore purtroppo non è finito qui se ricordate Zaid ha un debole per i contenuti piccanti bestiali e qui purtroppo tornano in scena i cani Zaid obbliga Jimmy ad avere un rapporto con i due animali chi mi segue da un po' sa che su questo canale affrontiamo casi davvero contorti e assurdi ma ho scelto di non approfondire ulteriormente questa informazione perché quello che vi ho raccontato per quanto mi riguarda è già troppo disgraziatamente non posso nemmeno dirvi che il povero Jimmy dopo queste sofferenze indicibili sia stato lasciato in pace anzi a questo punto Zaid annuncia al gruppo che sta per rimuovere uno dei testini di Jimmy il disgustoso leader si gira verso la sua vittima e gli chiede quale vuoi che ti rimuova Jimmy risponde non lo so allora Zaid estrae un coltello lo passa a Dan e le ordina di assolvere al ributtante spietato compito Anne però si rifiuta allora Zaid le strappa il coltello dalle mani e procede da solo sapere che durante tutte queste innumerevoli torture Jimmy era vigile e cosciente mi spezza il cuore non posso immaginare neanche lontanamente il dolore che deve aver provato Jimmy purtroppo non ha mai perso i sensi inoltre mi ha lasciata esterefatta a scoprire che nessuna delle tre donne ha mai cercato di risparmiargli quei supplizi tutte hanno partecipato agli orrori o sono rimasti a guardare infine per concludere la tortura nella maniera più disgustosa e umiliante Zaid si reche in cucina con il testicolo reciso per bollirlo nell'acqua poi torna in soggiorno e obbliga Jimmy a mangiarlo Jimmy ormai non ce la fa più è stravolto e abbattuto dopo mesi di violenze fisiche e psicologiche quindi si limita a seguire le istruzioni di Zaid sperando che l'incubo finisca al più presto il leader e le tre donne riescono addirittura a trovare questa scena molto divertente si mettono tutti a ridere e chiedono a Jimmy che sapore abbia il suo testicolo infine Zaid ordina a Dan di cauterizzare e suturare la ferita all'inizio di questa storia ero onestamente dispiaciuta per Kay Myra e Anne consideravo anche loro come delle prede in trappola visto che subivano degli aggiori ma il loro comportamento nei confronti di Jimmy mi ha lasciata atterrita come hanno fatto a partecipare attivamente a quell'escalation di torture perché non hanno provato tutte e tre insieme a fermare Zaid come hanno potuto ridere e scherzare sullo strazio che Jimmy stava subendo e che anche loro gli hanno riservato in più occasioni al gruppo non frega nulla di Jimmy e questo è chiaro ma direi che neanche l'autorità sembra importare dato che Jimmy è andato diverse volte in ospedale senza che nessuno si soffermasse sulle motivazioni indietro quelle ferite costanti dopo che Zaid gli ha cavato tutti i denti con le pinze lui e Jimmy vanno in ospedale e Zaid mente di nuovo al dottore di turno dicendo che Jimmy ha fatto quello scempio da solo cioè si è si è strappato i denti da solo davvero? fatico a credere che una persona possa auto infliggersi un dolore di questa portata forse nel caso di gravi malattie mentali può succedere ma Jimmy non erano state diagnosticate perché nessuno ha indagato oltre? il dottore ha accettato la risposta di Zaid senza fare ulteriori domande come se fosse normale per una persona sana di mente strapparsi o scalfirsi i denti da sola perché quel medico non ha provato ad aiutare Jimmy in qualche modo? era ovvio che avesse bisogno d'aiuto infatti quando il caso è poi emerso è stato redatto un rapporto dal quale si apprende che le autorità avevano avuto ben 17 occasioni distinte per tentare di salvare Jimmy 17 occasioni perse se qualcuno gli avesse prestato un minimo di attenzione in più l'esito di questo caso sarebbe stato indubbiamente diverso eppure tutti hanno preferito fare finta di nulla pensate che i seguaci della setta hanno persino portato Jimmy fuori casa senza preoccuparsi del fatto che qualcuno avrebbe potuto vederlo infatti diversi filmati di video sorveglianza della zona mostrano Jimmy che viene trascinato per strada da Mayra e Kay potete vederlo con i vostri occhi guardando questi filmati è palese quanto stesse male quanto fosse fragile Jimmy inciampo in continuazione non riesce a camminare correttamente a questo punto arriviamo al febbraio del 2016 sono passati alcuni giorni dalle riprese che vi ho fatto vedere poco fa e Ivan non vive più in casa con loro Jimmy che è stato maltrattato per anni dall'autunno del 2015 quindi da 4 mesi ha subito un estremo intensificarsi delle torrile a cui viene sottoposto il suo corpo non regge più è lacerato dalla sofferenza poco dopo la mezzanotte del 9 febbraio 2016 Jimmy è sdraiato sul letto sta cercando di dormire ma non ce la fa e inizia a strillare non riesce più a trattenere le urla di dolore Myra e Anne le due donne che vivono con lui rimangono sveglie tutta la notte a causa delle sue grida e sono davvero stufe così intono alle 5 del mattino Myra invia un messaggio a Zaid con scritto quel bastardo mi ha tenuta sveglia tutta la notte in risposta Zaid le scrive che lui e Kay sarebbero andati da lei per occuparsi di Jimmy in modo da tenerlo tranquillo quando Zaid e Kay arrivano il gruppo si raduna e discute di come far tacere Jimmy il leader ordina a Anne di prendere un paio di pantaloni per imbavagliare Jimmy coprendogli la bocca affinché la smetta di urlare Anne esegue l'ordine e riesce a soffocare per un po' i lamenti di Jimmy che a questo punto non sono più così forti il gruppo è soddisfatto del risultato di conseguenza tutti tornano a dormire Zaid e Kay rincasano e Myra e Anne vanno a letto Anne ha legato il bavaglio ricreato con i pantaloni attorno al viso di Jimmy ma oltre a coprirgli la bocca gli ha tappato anche il naso quindi il poverino non riesce più a respirare un'ora più tardi Myra va a controllare Jimmy e si rende conto che è morto dopo l'orribile omicidio Myra chiama Zaid per dargli la notizia ma il leader è convinto di riuscire a sfuggire alla legge quindi entra immediatamente in azione per prima cosa va a recuperare un'altra sedia a rotelle che conserva nel garage poi lui e Kay tornano a casa di Anne e Myra tutti insieme avvolgono il corpo di Jimmy in un sacco a pelo lo sistemano sulla sedia a rotelle e lo portano fuori per strada sono circa le 6.30 del mattino e il gruppo raggiunge una zona desolata circa 100 metri da casa vicino alla A187 a North Shields e scarica lì il cadavere di Jimmy il leader e le sua dette sperano che la morte di Jimmy venga considerata un incidente siccome l'agente del posto sa che lui conduce una vita un po' sregolata i membri dello spietato gruppo tornano a casa e accendono un piccolo falò per bruciare ogni prova che possa collegarli all'omicidio di Jimmy poi riprendono con le loro vite come al solito nei giorni successivi all'omicidio Zaid indossa la maschera dell'amico apprensivo e va in giro a domandare qualcuno ha visto Jimmy? oh non lo vediamo da qualche giorno non sappiamo proprio dove si è andato sta chiaramente cercando di assicurarsi che nessuno sospetti di lui ma gli sfugge un dettaglio cioè che si è comportato malissimo con il vicinato che ora è pronto a diffidare di un uomo del genere la scomparsa di Jimmy viene denunciata alla polizia che effettuano ricerca nel tentativo di individuarlo anche se nessuno ha idea di dove possa essere andato in tutto ciò Zaid e le sue seguaci non vengono neanche interrogati scrupolosamente la polizia rivolge loro giusto un paio di domande di routine e poi se ne va sembra che la polizia faccia ben pochi sforzi per trovare Jimmy forse perché si sofferma sul suo vissuto da scapestrato e ipotizza che si fosse allontanato spontaneamente i giorni passano diventano settimane e il corpo di Jimmy non è ancora stato trovato Zaid e le sue seguaci sono davvero convinti di essere riusciti a farla franca tanto che tornano nel luogo dove hanno scaricato il cadavere per recuperare la carta di credito di Jimmy e rubargli i soldi passano sei settimane e Anne la più giovane del gruppo diventa sempre più inquieta convinta che la polizia prima o poi la incriminerà Anne vuole fare solo una cosa andare in questura a confessare il delitto ma Zaid non ha alcuna intenzione di consentirglielo intuendo che Anne è prossima a raccontare tutto alle autorità Zaid è scogito a un piano per incolpare soltanto lei si mette all'opera e scrive una confessione di tre pagine sull'omicidio di Jimmy firmando la lettera a nome di Anne poi chiama il 999 e dice alla polizia che è in grave pericolo perché si trova a stretto contatto con Anne la donna che ha ucciso Jimmy Prout e che ora sta cercando di uccidere anche lui la polizia allora va a casa di Zaid e lo trova con entrambe le sue fidanzate Kay e Mayra il leader della setta consegna la falsa lettera di confessione di Anne ma stavolta la polizia non ci casca la situazione è incredibilmente sospetta perché quest'uomo dovrebbe avere in pugno la confessione dell'omicidio scritta da qualcun altro la polizia verificando che Jimmy risulta come una persona scomparsa arresta Zaid Mayra e Kay i tre vengono portati alla stazione di polizia per essere interrogati Zaid era assolutamente convinto che il suo piano avrebbe funzionato che sarebbe riuscito a incolpare Anne ma le sue convinzioni sono smentite dalla realtà tuttavia nel frattempo Anne si è data alla fuga ancora prima che il leader chiamasse il 999 forse Anne immaginava che Zaid avrebbe tentato di incastrarla magari aveva trovato la lettera con la confessione firmata con il suo nome o semplicemente colta da un brutto presentimento aveva seguito l'istinto di scappare Anne però viene rintracciata quindi la polizia trattiene tutti e quattro i membri della setta e li interroga separatamente loro una volta soli con i detective si incolpano subito a vicenda alla fine Anne la più giovane del gruppo può crollare racconta con esattezza alla polizia tutto ciò che è successo a Jimmy la notte in cui è morto e fa anche di più porta gli agenti nel luogo dove hanno abbandonato il suo corpo finalmente la polizia sa cos'è accaduto a Jimmy ma siccome sono passate ben sei settimane il suo cadavere è gravemente decomposto il medico legale in effetti non riesce a identificare la precisa causa del decesso ma può ben vedere le torte estreme che la vittima ha subito quasi tutti i denti gli sono stati cavati e quelli che restano sono rotti poi gli è stato rimosso un testino e ha segni di coltellate su tutto il corpo la polizia effettua anche una ricerca sui social media e scopre i post pubblicati sul profilo facebook di Jimmy in cui lui chiedeva aiuto poi analizza i filmati delle telecamere a circuito chiuso della via in cui abita il gruppo e vede Jimmy che viene trascinato in giro da Mayra e Kay il caso adesso esplode tutti i media ne parlano e ribattezzano la banda col nome la setta della morte di North Shields passa un anno è il maggio del 2017 e il caso va a processo Zahid Mayra Kay e Anne si dichiarano tutti non colpevoli Zahid continua a dipingersi come un uomo vulnerabile costretto a usare una sedia a rotelle a causa di un incidente devastante che gli ha stravolto la vita ripete che non avrebbe mai potuto essere irresponsabile di azioni tanto mostruose lui è un cittadino buono e onesto intanto finalmente le tre ex adepte sono tornate in loro quindi raccontano tutta la verità su Zahid spiegano chi è in realtà chi finge di essere e di cosa è davvero capace rivelano come le trattava e come trattava Jimmy forniscono tutti i dettagli strazianti che hanno condotto Jimmy incontro a una morte così abominevole ricostruendo cosa aveva fatto Zahid e cosa aveva ordinato loro di fare il processo si protrae per circa due settimane nelle argomentazioni conclusive l'accusa sostiene che Zahid aveva controllato e manipolato questo gruppo di persone per anni interi l'accusa afferma che senza le direttive di Zahid Jimmy non sarebbe stato ucciso cioè in assenza del leader Kay Mayra e Anne non avrebbero mai inflitto simili violenze a Jimmy e onestamente questo lo credo anche io l'accusa però ritiene che è Anne l'assassina di Jimmy visto che era stata lei ad allacciargli i pantaloni intorno alla faccia impedendogli di respirare l'accusa è altrettanto severa nei confronti di Mayra e Kay perché erano rimaste lì a guardare senza nemmeno provare a intervenire dopo le argomentazioni conclusive la giuria si ritira per deliberare e il verdetto prevede quanto segue Anne Corbett viene ritenuta colpevole di omicidio e condannata a un minimo di 27 anni da scontare in prigione Zahid Zaman viene giudicato colpevole di omicidio e condannato a un minimo di 33 anni di reclusione Kay e Mayra vengono considerate non colpevoli di omicidio ma responsabili di aver causato permesso l'omicidio di un adulto vulnerabile dunque Kay viene condannata a 12 anni di detenzione mentre Mayra ha 9 anni ancora oggi sono tutti in cella e approvo che Zahid abbia ricevuto la pena più lunga tra tutti è decisamente lui il principale colpevole in questo caso voglio concludere il video concentrarmi sulla vittima di questa vicenda orribile Jimmy Prout è stato descritto come una persona gentile amichevole e premurosa come detto aveva vissuto un'infanzia molto complicata era incredibilmente vulnerabile e soffriva di notevoli difficoltà di apprendimento eppure nonostante le avversità sperimentate lungo il suo cammino Jimmy era sempre stato un uomo ottimista e riusciva a far sorridere le persone intorno a lui e faceva tutto il possibile per aiutare chiunque dopo la sua morte la sua ex moglie e suo fratello hanno rilasciato delle dichiarazioni in cui affermano che Jimmy aveva davvero un cuore d'oro era una delle persone più cortesi che avessero mai conosciuto purtroppo per ragioni prive sia di logica che di umanità la sua vita è finita prematuramente e ferocemente all'età di 45 anni e questo ci porta alla fine di questo video ovviamente sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo caso io trovo che sia davvero terribile e come al solito non trovo una vera motivazione dietro questo omicidio e quindi trovo che questo caso sia anche più doloroso di altri no non c'è un movente definito e quindi boh l'ho trovato davvero davvero assurdo ma poi la violenza che ha subito Jimmy è davvero fuori dal comune è terribile insomma e sono molto curiosa di sapere la vostra opinione e come vi dico sempre ci vediamo qui sotto nei commenti ci becchiamo qui sotto nei commenti e io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti